allora ragazzi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi volevo andare un altro po' a parlare di quello che è successo ieri sera ovviamente una sconfitta che fa male una sconfitta che mi ha lasciato veramente molto amareggiato perché comunque purtroppo la partita di ieri sera è stata ancora una volta la dimostrazione che la nostra è una squadra che non raccoglie ciò che merita perché per quanto riguarda la prestazione del collettivo per quanto riguarda quello che la squadra ha dato e ha espresso in campo non c'è nulla da criticare e bisogna soltanto andare orgogliosi per quello che il nostro Napoli ha mostrato nella partita di ieri soprattutto nel secondo tempo dove li abbiamo veramente surclassati li abbiamo annichiliti del tutto li abbiamo costretti a stare lì rintanati in difesa a spazzare e perdere tempo come se fossero un frosinone qualsiasi ma a parte questo abbiamo messo in mostra un calcio di davvero grandissima qualità e giocato su ritmi altissimi in parità numerica ci siamo dimostrati nettamente superiori alla fine loro i due gol li hanno fatti entrambi quando avevano l'uomo in più e diciamo che in parità numerica abbiamo giocato quasi l'intero secondo tempo e la parte iniziale del primo tempo prima dell'episodio che ha portato all'espulsione di meret diciamo che prima dell'espulsione di meret la partita è stata abbastanza equilibrata anche se comunque senza dubbio avevamo fatto di più noi avendo anche un'occasione importante con zielischi dove la palla esce di poco però poi praticamente l'episodio che ha deciso la partita è stato proprio quello dell'espulsione di meret lì soprattutto è da condannare mal quit che fa un retropassaggio sciagurato a meret sul pallone ci arriva ronaldo che tenta di scartare meret meret va in scivolata sul portoghese ronaldo cade e viene concesso questo calcio di punizione e l'espulsione al nostro portiere sinceramente il fallo c'è il fallo c'è perché comunque è vero sì che il contatto tra i due non avviene ma meret comunque ha l'intenzione di andare a colpire ronaldo forse si può discutere di più sul fatto se era giusto dare il giallo dare il rosso e sicuramente l'arbitro doveva andare a consultare il var e non si sa perché non l'abbia fatto però poi ovviamente anche su questo episodio gli juventini continuano a dimostrarsi incoerenti perché questo è un episodio molto simile all'episodio di qualche settimana fa in sassuolo juventus tra i unici cescesni dove in quell'occasione non fu concesso il calcio di rigore al sassuolo mentre ieri ovviamente il fallo è stato concesso però per gli juventini ovviamente in quell'occasione è stato giusto non concedere il fallo e ieri è stato giusto concedere il fallo ma visto che sono due episodi molto simili almeno trovatevela una vostra coerenza so che per voi la coerenza è una cosa molto difficile ma ma almeno provateci o sono falli entrambi o non è fallo nessuno dei due diciamo che c'è qualcosa di diverso perché lì cesni prima tocca il pallone però poi dopo va sugli unici c'è c'è il contatto tra i due mentre ieri se vogliamo parlare sempre dell'intenzionalità comunque meretti in primis esce per andare a prendere il pallone quindi comunque anche se c'è qualcosa di diverso in questi due episodi resta il fatto che o sono falli entrambi o non è fallo nessuno dei due ed oltretutto se vogliamo parlare sempre di episodi del genere mi è venuto in mente un'altra situazione un altro episodio sempre in un napoli juventus di diversi anni fa del 2007 vinto da noi per 3 a 1 con due rigori abbastanza discutibili e se vogliamo andare a vedere l'episodio di uno di questi due di questi due rigori che ci vennero concessi ce n'è uno molto simile al contatto di ieri tra meretta e ronaldo in quell'occasione il contatto fu tra zalageta e buffon perché anche in quell'occasione buffon esce con l'intenzione di prendere zalageta zalageta salta così come ha saltato anche ronaldo cade zalageta così come anche ronaldo e il contatto tra i due non ci fu così proprio lo stesso episodio che abbiamo visto nella partita di ieri però lì ovviamente gli juventini gridarono allo scandalo ancora oggi parlano di quell'episodio quindi almeno trovatevi una vostra coerenza io non sto dicendo non sto giudicando il fatto se sia stata giusta o meno l'espulsione di ieri secondo me si poteva dare e non dare però bisogna almeno trovare una coerenza su episodi del genere perché o per esempio no mettendo a confronto quello di ieri con questi altri due citati o sono tutti falli o non è fallo nessuno quindi serve anche un po di coerenza sia da parte degli arbitri sul come concedono questi episodi sia da parte delle tifoserie poi addirittura ci hanno dato degli antisportivi perché non abbiamo restituito il pallone ma non l'abbiamo restituito il pallone perché di bala stava a terra come sempre soltanto per perdere tempo e per fare le vostre solite finte c'è vi mettete a parlare di cose del genere dopo tantissimi episodi dopo l'episodio di bonucci che prima a madrid prima guarda così se il pallone entra poi quando il pallone entra fa così c'è ma ma veramente facciamo poi voi che volete dare le lezioni di antisportività veramente sono cose che non si possono vedere c'è ma veramente dai che poi voi nel secondo tempo non so quante perdite di tempo stavate sempre a terra scesni che per battere ogni rinvio perdeva perdeva 5 minuti per battere ogni rinvio scesni non si è visto dalla televisione probabilmente non si sarà visto però io che ero allo stadio vedevo che scesni prima di battere ogni rinvio si faceva la passeggiatina in un paio di occasioni ha rispinto anche il pallone indietro è andato a prendere il pallone a fondo campo l'ha buttato indietro dietro i cartelloni pubblicitari e se ne è fatto dare un altro da racchetta palle per una cosa del genere in roma spalli il portiere della della spalla fu espulso quindi non ci venite a dare lezioni di sportività perché voi rappresentate l'antisportività e non certo potete permettervi di accusare gli altri di essere antisportivi e poi infine concludendo sulle varie sulle solite dicerie assurde da parte di quelli là io vorrei tanto sapere dove la vostra tanto sannata mentalità vincente visto che vi accontentate del vincere lo scudettino in italia con aiuti e giocando come una provinciale del poi andare in europa e dimostrare quello che è il vostro reale valore vabbè comunque detto questo ritorniamo sul napoli quindi ripeto soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima prestazione una prestazione che comunque è di buon auspicio anche per l'europa league se facciamo prestazioni del genere veramente abbiamo tutte le possibilità per poter vincere questa competizione e ovviamente serve già una grande prestazione a partire da giovedì sera contro il salisburgo bisogna assolutamente trovare la vittoria in modo da non rendere troppo insidioso il ritorno in austria una vittoria possibilmente o con un gol di scarto però senza subire gol o con due gol di scarto però ovviamente poi la cosa essenziale è vincere perché comunque se anche dovessimo vincere 2 a 1 ad esempio secondo me con qualsiasi vittoria abbiamo ottime possibilità di trovare poi la qualificazione ai quarti di finale al ritorno e comunque se per qua ritornando sempre alla partita di ieri sera alla prestazione del collettivo non c'è nulla da criticare però c'è da criticare su quelle che sono state alcune su quelli che sono stati alcuni errori individuali da parte di alcuni dei nostri calciatori mi riferisco a malquitt isai ed insigne perché malquitt fa il retropassaggio che poi porta all'episodio tra meretta e ronaldo e un passaggio del genere non va affatto oppure se proprio lo vuoi fare lo fai bene ti direzioni verso il portiere e fai un filtrante e non un passaggio corto e storto così come l'hai fatto peccato perché malquitt aveva anche iniziato bene la partita però poi ha rovinato la partita sia la sua sia la nostra con questo errore veramente troppo grave comunque a certi livelli non ti puoi permettere errori del genere e comunque ripeto senza quest'errore noi la partita la vincevamo a mani basse secondo me senza dubbio poi isai è stato probabilmente il colpevole maggiore del secondo gol perché lì praticamente emre chan salta da solo e poi addirittura il colpo di testa di emre chan è anche deviato dai sai quindi secondo me se il pallone non fosse stato deviato dai sai la palla non entrava neanche in rete quindi sai qui del tutto colpevole e in signe il rigore non lo doveva fallire era un'occasione troppo ghiotta e comunque secondo me per quella che era l'atmosfera che si era creata in quei minuti per come stavamo giocando se trovavamo quel gol del 2 a 2 sul rigore quando mancavano ancora un 5 6 minuti alla fine noi la vincevamo 3 a 2 la partita ne sono sicuro però purtroppo è andata così e bisogna andare avanti ora bisogna pensare alla partita di giovedì perché a questo punto senza dubbio l'obiettivo il grande obiettivo di questo finale di stagione è la vittoria dell'europa league però ovviamente senza trascurare il campionato che comunque va onorato fino alla fine e quindi ragazzi detto questo io vi saluto anzi volevo aggiungere un'ultima cosa come ho già detto ieri sul comportamento delle due curve durante la prima frazione di gioco questa è una situazione che non può andare avanti perché c'è noi ci siamo sempre contraddistinti in positivo per quanto riguarda la passione allo stadio per quanto riguarda il sostegno alla propria squadra e atteggiamenti del genere non servono proprio a nulla sono sbagliati innanzitutto ma poi non portano ad alcun scopo positivo ora mi venissero a spiegare quelli delle due curve a che scopo positivo ha portato quello che hanno fatto nel primo tempo cioè o cantavano cori contro dei laurentis o stavano muti in silenzio mentre poi nel secondo tempo è stato veramente un vero e proprio spettacolo una bolgia una passione veramente incredibile ma la passione straordinaria che si è sentita nel secondo tempo doveva sentirsi sin dall'inizio sin dalla prima frazione di gioco perché in partite del genere la squadra ha bisogno del sostegno del pubblico ha bisogno del dodicesimo uomo in campo che al san paolo è sempre stato il pubblico mentre altrove è l'arbitro e comunque con atteggiamenti del genere tu alla squadra nel momento nel quale si sta giocando una partita non trasmetti per nulla serenità e come dico più volte ora questi cori contro dei laurentis se proprio li volete fare se proprio volete fare queste proteste andatele a fare in altri contesti ma durante la partita allo stadio quello non è il momento giusto per fare ciò non è il momento giusto per fare ciò e questi atteggiamenti questi episodi non devono assolutamente ripetersi più e vabbè ragazzi quindi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza napoli